Quattro i momenti della preghiera di questa Santa Viglia. Abbiamo cominciato con il segno del fuoco, il fuoco nuovo, il fuoco che richiama la vocazione di Mosè quando dovette farsi carico del popolo. E comincia la storia della liberazione, il fuoco di sua natura. Ha due funzioni, trasforma e illumina. Non c'è materiale al mondo che a contatto del fuoco non si trasformi, ma anche una piccola luce. E' il segno delle nostre candeline. Anche una piccola luce fende il buio. Chissà se ci siamo resi conto che quella piccola candelina accesa voleva essere l'impegno a essere missionari, a portare il Vangelo di Gesù in questa nostra città di Arezzo. Di essere anche noi, prima con il nostro esempio e poi con le parole, capaci di testimoniare il Vangelo. Ma come si diventa capaci? È la seconda fase della liturgia che stiamo finendo. attraverso l'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio è capace di trasformare e di formare. non solo comunica il valore noetico della parola, comunica le meraviglie di Dio, il progetto di Dio, la sapienza di Dio. Ma la parola per virtù dello Spirito Santo muove, è il suo valore dinamico. E' capace di farci passare dal quieto vivere ad essere amici di Gesù. Questi cristiani, in questa notte santa, vogliamo essere amici di Gesù. Questo è il senso di questo ascolto, di questo cammino che ora si evolve ancora. Abbiamo una grazia grandissima. Quattordici adulti ci danno il buon esempio. Chiedono di diventare cristiani. Non vi pare una cosa bellissima? Invocando le litanie dei santi, noi ora ci avvieremo a battezzarli, a cresimarli. In mezzo a loro ci sono due coppie che si legheranno di matrimonio tra di loro ricevendo la grazia dello Spirito Santo. E da ultimo abbiamo voluto la nuova alleanza. Siamo a celebrare un nuovo rapporto con Dio, con la presenza reale di Lui nella Divina Eucaristia. Noi concluderemo questa grande veglia, madre di tutte le veglie. Invochiamo la misericordia di Dio Padre Onipidale, potente per questi Suoi figli che chiedono il Santo Battesimo. Conceda ad essi il rinnovamento dello Spirito che stiamo per invocare sopra quest'acqua.